Carolina Casiraghi si spoglia davanti alle telecamere e lascia un vuoto nel cuore perdutamente innamorato dei follower, bellezza da censura non finisce mai di stupire, la bellissima e sensualissima dama di Instagram, Carolina Casiraghi. Stavolta i riflettori non hanno potuto fare altro che alzare l'intensità della luce su di lei, che ha davvero superato se stessa rispetto a ieri, in cui vi deliziava solo con abiti glemure e intimi succinti. Oggi, il menù dell'imprenditrice ci propone un sussulto da capogiro, che fa sognare a prima vista, tanto da rimanere senza parole. Carolina era partita con l'idea di mettere a nudo il sogno di continuare a rimpolpare d'esperienza, l'azienda di famiglia. Poi dal primo scatto sui social network è finita col mostrare ciò che le riesce meglio, ovvero far trasparire al pubblico nuovi lu che pose. Tutto era iniziato per gioco, ma alla fine l'ha presa come una serissima opportunità, che le ha regalato una certa visibilità sul web. Con ben 280.000 follower al seguito leggi anche Carolina Casiraghi senza freni scalda il cuore dei follower di Instagram dopo aver concepito il suo modello di vita, Carolina Casiraghi ha iniziato a sfornare prestazioni all'altezza della situazione, rivelando a tutti la parte migliore del suo repertorio. Dietro a quegli scatti limpidi e prestigiosi riesce sempre a dare nell'occhio, con una bellezza onorevole, da regina di castello. Con il tempo, Carolina si è specializzata in sensualità, iniziando a piccoli passi a scoprire le meraviglie del suo aspetto fisico. Dopo una serie di trasparenze e pose da censura, lo spettacolo si infittisce di sogni per i fan. Rimasti allibiti di fronte all'ultima moda della Casiraghi. Non è tempo dei commenti, bensì di aprire gli occhi e stropicciarli dallo stupore. Ecco la modella e imprenditrice arrivare a grandi passi sotto i riflettori e mettere in risalto un emozionante nudo di profilo. Leggi anche lo scatto ed a censura per una Carolina senza veli che sfocia inevitabilmente in un'illegalità insperata per i fan, che hanno aspetto a lungo questo momento. Lo stesso in cui lei lascia enormi spazi all'amore che mai come stavolta per lei, vince davvero su tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.